Salve di Riso Prepariamo le colombe artigianali a lievito naturale Vi presento gli ingredienti che dovete utilizzare Una qualità di farina eccellente Del burro di centrifuga Tuorlo d'uovo Zucchero Acqua E lievito naturale Naturalmente questo è il primo impasto Che si deve preparare almeno 12 ore prima Del secondo impasto Il secondo impasto Ha gli stessi ingredienti Con l'aggiunta poi della parte aromatica Che è la buccia di arancia grattugiata La bacca di vaniglia E naturalmente le bucce di arancia candite Adesso realizziamo il primo impasto È importante avere a disposizione Un'impastatrice Inseriamo l'acqua Il lievito naturale Direttamente all'interno E lo zucchero Zucchero femolato Iniziamo il nostro impasto Lasciamo circa un minuto Facciamo sciogliere lo zucchero nell'acqua E inseriamo all'interno della nostra macchina La farina Si deve avere una farina eccezionale Credo sia l'ingrediente principale Questa fase è molto importante E comunque non deve durare più di 25-30 minuti Dopo circa 10 minuti Quando la pasta ha preso una bella elasticità Quindi diventa bella soda in questo modo Iniziamo ad inserire il tuorlo d'uovo E pian piano anche il burro La pasta è pronta Ora la tiriamo fuori dalla macchina Eccola qui Come vedete è molto liscia Asciutta, setosa La copriamo con pellicola E la lasciamo levitare per circa 12-13 ore Ad una temperatura di circa 28 gradi centigradi A questo punto è pronto per assorbire gli altri ingredienti Che fanno parte della ricetta della colomba E adesso lo rimettiamo in macchina Aggiungendo subito lo zucchero Al velo Facciamo assorbire lo zucchero E abbiamo ancora una parte di farina Che aggiungeremo subito dopo Iniziamo ad aggiungere il tuorlo Aggiungiamo adesso il burro morbido Miele di arancio O miele millefiori O miele di acacia Per finire aggiungiamo l'acqua Con il sale sciolto dentro Questo impasto normalmente dura 50 minuti Allora, terminiamo l'impasto Aggiungendo la parte aromatica La bacca di vaniglia Un'arancia grattugiata E infine aggiungiamo i cubetti d'arancio Facciamo assorbire tutta la frutta Adesso tagliamo la pasta Facciamo tre pezzi da circa un chilo E iniziamo la pirlatura Questo lavoro lo faremo due volte A distanza di un'ora Dopo circa un'ora Tagliamo la pasta Che nel frattempo ha fatto una bella pelle Come vedete in superficie Tagliamo le ali Pirliamo un po' la pasta Creando poi il corpo della colomba Adesso lasceremo lievitare la colomba Per almeno 6-7 ore A una temperatura di circa 28 gradi centigradi Adesso prepariamo la glassa Le mandorle Per ricoprire la nostra colomba Zucchero Mandorle in polvere Aggiungiamo allo zucchero Albume d'uovo Iniziamo a bagnare lo zucchero Fino ad ottenere Una consistenza Per spalmare la glassa di mandorle Sulle colombe Quindi la lasciamo riposare Per un paio d'ore E dopo circa due ore Questa è la consistenza giusta Per una glassa di mandorle Da spalmare sulle colombe A questo punto Andiamo a decorare Con mandorle Mandorle sgusciate E mandorle pelate E granella di zucchero La colomba è pronta Per essere infornata La metteremo in forno A 170 gradi Per circa 45-50 minuti E subito dopo All'uscita del forno Con dei spilloni La metteremo a testa in giù La colomba è pronta Appena uscita dal forno Andiamo a infilare Con Dei ferri Onde a evitare Che possa venire giù La parte di sopra Questo è il risultato Finale Buon appetito